Aumenta il numero dei parti effettuati al reparto di ginecologia e ostetricia di Gela, nonostante ad oggi l'azienda sanitaria provinciale non abbia ancora attivato il secondo livello e non abbia nemmeno attivato l'utin. La denuncia è del portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Franzone e l'emblema si regge in una nota di una Gela coraggiosa che si ribella alla crisi e alla stessa Aspenissena. Genitori nonostante tutto fiduciosi verso il futuro a dispetto di un contesto economico-sociale tutt'altro che confortante e contro le manchevolezze che l'Asponissena reitera nei confronti del nosocomio gelese. Sono in tutto 937 nuovi nati presso l'ospedale gelese, comprese peraltro le nascite di alcune partorienti provenienti da altri centi appartenenti ad altre Asp. Oltre 600 sono i nuovi nati di Gela, a dimostrazione che le mamme gelesi preferiscono dare alla luce i loro figli in città. I nuovi nati nei comuni di Gela, Nescemi, Mazzarino, Butera e Riesi sono 1.149. Il decreto assessoriale del 2 dicembre 2011 sul riordino e razionalizzazione dei punti nascita prevedeva che presso l'ospedale di Gela fossero 1.454 i parti in un anno. Cosa impedisce il raggiungimento di questa cifra? A meno di negare l'evidenza, la risposta è sotto gli occhi di tutti, e cioè la totale disattenzione dell'Asponissena e dei manager che si sono succeduti negli ultimi cinque anni, dice Franzone. L'Utin è rimasta la grande promessa mancata dei manager Asp da Virgilio a Iacono. L'ultimo annuncio prevedeva l'assegnazione dei lavori per giugno 2016. Oggi non se ne intravede nemmeno l'ombra. Mancano sempre soldi per Gela, nel contempo si continua ad investire nell'ospedale al centro dell'area più disabitata della Sicilia, quale appunto quella nisseno-ennese. Non passa mese in cui non iniziano nuovi lavori, nuove strutture, dalla PET-TAC alla seconda UFA, spostamento di reparti per creare il polo oncologico a San Cataldo, parcheggi e tanto altro ancora. Mentre a Gela si attendono ancora strutture individuate nel 2010. Ginecologia e ostetricia. L'attivazione di secondo livello impone all'Asp di adeguare strumentazione personale agli standard imposti dall'assessorato alla salute. Invece, ancora oggi, niente strumentazione, niente personale. L'attuale pianta organica del reparto conta un primario, 11 medici, 12 ostetrici, pari alla pianta organica del Sant'Elia di Galtanissetta, che però è un centro di primo livello, con un numero di nascite notevolmente inferiore, a cui si deve associare anche il personale del punto nascite di Mussomeri, mentre i punti nascita di Mazzalino e Niscemi vanno a chiudere. La previsione per il reparto gelese nel 2011 era di un primario, 17 medici, 18 ostetrici e 6 anestesisti. Ben 18 professionalità specialistiche in più. Una situazione in cui dispiace, rimarca Franzone, che le forze politiche gelesi, dal presidente della regione al trentesimo consigliere comunale, passando attraverso i deputati all'ARS, non si accorgano di come Gela venga sempre penalizzata in ambito ospedaliero. La responsabilità della gestione manageriale dell'ASP di Sena è evidente, ma non individuarne una complicità della stessa classe politica gelese, chiude Franzone, indifferente e latitante sulla questione, sarebbe come mettere la testa sotto la sabbia.